Dopo le prime apparizioni televisive come poeta metropolitano, ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show, e di alcune puntate di DJ Television alla fine degli anni Ottanta, nel 1996, Ricky Memphis è stato uno dei protagonisti del film Palermo Milano solo andata di Claudio Fragasso, nel ruolo del poliziotto scelto, Remo Matteotti amico e compagno di Tarcisio Proietti interpretato da Valerio Mastandrea. Ricky Memphis è stato tra i protagonisti della serie TV nata nel 2000, distretto di polizia, nella quale ha interpretato l'ispettore Mauro Belli nelle prime sei stagioni. Il suo cognome Memphis nasce dalla sua passione per Elvis Presley. Originario di Memphis, esordisce come attore cinematografico nel 1991 con il film Ultra di Ricky Tognazzi, per il quale vince il premio come miglior attore non protagonista alla quarta edizione dell'European Film Awards. Sul grande schermo ha poi interpretato film d'autore come Pugni di rabbia, 1991, La scorta, 1993, Il branco, 1994, lo stesso anno ha poi preso parte al cast dei mitici Colpo Gobbo a Milano. Nel 1995 è stata la volta di Palermo Milano solo andata. Vite strozzate con Luca Zingaretti e Vincent Lindon. Nel 1997 di altri uomini. Nel 1999 partecipa a ultimo la sfida Il morso del serpente. Nel 2002 nel cast di Paits. Il film tratto dai fumetti di Andrea Pazienza di Renato De Maria. Mentre nel 2007 partecipa al fortunato sequel Milano Palermo Il ritorno. Nell'autunno 2008 è stato protagonista insieme a Daniele Pecci nella serie TV Crimini Bianchi. Per la regia di Alberto Ferrari. Nell'estate 2009, reannuncia la sua partecipazione in una nuova serie televisiva della RAI di genere poliziesco. Nella quale interpreta il ruolo di uno spacciatore. La serie, il cui titolo definitivo sarà la Narcotici. Viene trasmessa da RAI 1 a partire dal gennaio 2011. Nello stesso periodo è tra i protagonisti del film Commedia Immaturi. Con la regia di Paolo Genovese. Nel film, uscito nelle sale il 21 gennaio 2011, Memphis interpreta il ruolo di Lorenzo. Un giovane agente immobiliare che, alla soglia dei 40 anni, si ostina a rimanere a casa con i genitori. Sempre nel 2011 lavora di nuovo con Raul Bova nella miniserie televisiva Come un Delfino. A maggio è protagonista sul set di Ex Amici come prima. Sequel di Ex, a luglio, invece, ha girato il sequel di Immaturi dal titolo Immaturi il Viaggio. Nelle sale dal 4 gennaio 2012. Da febbraio 2011 lavora sul set di Tutti i Pazzi per Amore 3. In onda dal 6 novembre 2011 su RAI 1. Tra maggio e giugno 2012 ha concluso le riprese sul set di Palermo Milano solo andata. Secondo capitolo dell'omonima minifiction andata in onda nella primavera 2011. In cui si ricorda una celebre scena drammatica in cui ripete ossessivamente Non sono io l'ammasso. È Meggiorin. La seconda stagione si svolge in quattro puntate e va in onda su Canale 5 nel maggio 2013. Inoltre l'attore romano è stato protagonista in My Stati Uniti dei fratelli Vanzina. Nelle sale il 3 gennaio 2013 ha girato l'ultima ruota del carro del regista Giovanni Veronesi che verrà proiettato il 14 novembre 2013. Nel 2013 è impegnato anche per il film di Claudio Amendola. Per la prima volta regista. La mossa del pinguino. Al cinema nel 2014.